Eh, amici, amici cari, buonasera, e che dire, io sono rimasto sorpreso, contentissimo, pieno di gioia, la dea bentata, dopo tre estazioni, l'avevo previsto il primo luglio, il quattro luglio, stasera, sei luglio, dopo tre estazioni, no dopo dieci, o dopo venti, o dopo trenta, tre, solo tre estazioni, la dea bentata, ci ha besiato, a tutti, questa volta posso dire a tutti, perché, amici, hanno giocato parecchio, e un mio abbonato, che ha avuto fiducia, gli ha puntato cento euro, sull'estatto trenta, a Bari, dopo tre estazioni, dopo tre estazioni, regalato, su popolo facebook, di cinquemila amici, c'ho un altro popolo di cinquemila, secondo profilo, c'ho il terzo profilo facebook, di altri cinquemila, e so quindicimila, più su un instagram di diecimila, e so vinticinquemila, su un altro instagram di seicento persone, e il mio canale youtube, di settecento iscritti, e un altro canale youtube, di tremila e settecento iscritti, fate voi il calcolo, se lo hanno giocato tutti, intanto, sono arrivati, foto, a gogo, stasera, per la prima volta, tutti alla lettera, chi ha puntato da un euro, chi ha puntato un po' in più, e chi ha puntato da cento euro, e vi faccio vedere, è stato trenta, regalato a tutti i gruppi abbonati, regalato a tutti voi, siete un popolo di trentamila, siete un popolo di trentamila, se la tecnologia migliora, questi trentamila, io le unirò, e formerò solo un canale, solo un canale, solo un canale, formerò solo un canale, con un popolo di trentamila, senza che vada a fare la diretta lì, 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 no, pubblicherò lì, farò risultare trentamila persone che mi seguono, se la tecnologia migliora, penso allovo di sì, farò così, fra qualche anno. Amici cari, che dire, alla grande, adesso si gioca anche domani sera, che è venerdì, questa è già la seconda, questa è già dopo di martedì, abbiamo vinto anche stasera, che è giovedì, pure che sono diventate quattro estrazioni, a me non mi ferma, la lottomatica e lo stato non mi ferma, non mi ferma con il lotto, regalato davanti a voi, è stato trenta, regalato in diretta nazionale di un popolo di trentamila persone, non sono pochi, la dea bentata ci ha baciato davvero a tutti. Adesso vi faccio vedere vincite, poi domattina, presto, scendo, mi vado a fare le fotocopie, verso le undici e mezzo, per questo giorno farò una grande e bella diretta e pubblicorò anche quella, che voglio sempre fotografarle e farla a fotocopia, questa è la mia soddisfazione. Poi domani sera c'è un'altra estrazione. Adesso basta regali, questo regale è stato fatto, ma chi mi vuole contattare a 327-1989-164 mi contatta per avere le previsioni su Whatsapp. Allora ecco a voi tutte le vincite, adesso giriamo la telecamera. Eh amici cari, amici cari, amici cari, mi piace? Me l'hanno regalata. Allora amici, allora dove dobbiamo andare a cominciare? Vabbè cominciamo da qua, eh? Una, è sempre se si vede che la telecamera diventerà a fuoco. Ecco qua, eh? Mova andrà a fuoco. Andrà, andrà, sì o no, sì 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 sì, vai a fuoco, vai a fuoco. Vai a fuoco, vai a fuoco e non si vede e non può andare a fuoco la telecamera, non lo so che è successo. La telecamera, se c'è a durare e non va, non va, non si vede. Un attimino, un attimino solo carissimi amici. Ecco qua, sì, adesso si vede. No, 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 non si vede. Connessione forse, che siamo in diretta. Sta ben ento, sta ben ento. Ah, ce l'abbiamo fatta. Allora, qui un euro ci hanno puntato, vedete? Però l'hanno coperto a Bari, nazionale. Una, dieci euro. Un euro, qui, altre dieci euro. Qui dico, non hanno possibilità e sono due vincite. Poi, qui, non hanno fatto vedere quando ce l'hanno puntato, ma ce l'hanno puntato un euro. Anche qui, poi, qui, ah, qui, amici, cento euro. Qui hanno puntato un bel cento euro, guardate. Un bel cento euro. Un bel cento euro, sono mille cento euro, amici. Netti, 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 in tasca, in tasca del bip abbonato. Guardate, cento euro, che ha creduto in me. Questa è la vincita più maggiore. Poi, qua, cinque euro. Ci hanno puntato, cinquanta euro qui. E queste le stazioni. Trenta Bari. Trenta Bari, che è andata anche a Cagliari. Trenta Bari. Cinquanta è, cinquantacinque euro. Cento, cento sopra e mille cento euro. Qui un euro ci hanno puntato e dieci euro. Qui un euro, dieci euro. Qui un euro, dieci euro. Vabbè, pure il pranzo, faccio vedere. Dieci. Venti. Trenta, con questo. 1130, con questo. 1130, 1180, 1185 con questo. Mi abbiamo tolto la lottomatica con il numero 30. 1185 euro. Che dire. Tutti con lo stesso estratto. Io vi voglio farvi vedere un'altra volta questa. Questa qui è troppo bella. Mi piace, mi piace. Mi piace, mi piace. Mi piace, mi piace. Mi piace. Eh? Giorno. Scontrino. Vincente. Eh? Eh? Che soddisfazione. La dea bentata. Ci ha baciato in grande. La terza estazione. Dopo tre estazioni. È uscito. Amici. Io l'avevo previsto per due estazioni. E vabbè è uscito un col... Un'estazione dopo. Non fanno... Importante. Guardate qui. Eh? Ma io ora voglio farvele vedere in grande. Ok? Amici. Allora sono. Intanto. Vi ripeto. Sono. Vi ripeto. Sono. Sono. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Sono cinque vincite. Solo con il numero 30. Amici. E domani faremo un'altra bellissima diretta. Che andrò a fotografarle. Amici cari. Eh che dire. Siamo soddisfatti. Guardate. Davanti a voi. Ci facciamo un po' di gelatino. Che è fresco. Che è molto fresco. E vino. Davanti a voi. In diretta. Perché. C'erano qui. Ecco qui. Ecco qua. Ok. Bello fresco. Fresco. La vostra. Salute. Allora amici. Che dire. Il 30 è andato. Adesso. Chi vuole le previsioni per domani e venerdì. Mi contatta a 3 2 7 1 9 8 9 1 6 4. E vincerà. E vinceremo sempre. Amici. A ogni estrazione. Ma state vedendo ormai. Senza che lo dico più. Veramente. A ogni estrazione. Ma questa è stata la prima volta. Che hanno vinto tutti. Con lo stesso estratto. No. Una cosa. E un altro. E un'altra cosa. No. Tutti uguali. Perché io così adesso vado a lavorare. Vado a lavorare. Per tutti voi. Così non si offendono. Perché. Ho sentito un po' di voci. Tu fai vincere a quello. Però io perdo. Allora io ho deciso. Che cosa ho deciso. Di dare l'unico. Unico. Previsione. Uguale a tutti. O si perde. O si vince. O si perde. O si vince. Ok. Perché per me non c'è differenza. O. Una uguale per tutti. O. Tanto. So che io sono bravo. So. Conosco i numeri. Conosco. I numeri. Conosco come sono fatti. E so che mi accompagnano. Non può andare. A primo. O alla seconda. Ma alla terza estrazione. Andiamo a vincere tutti. Forse non presenterò più. Vinci da ogni estrazione. Perché non darò più. Tante combinazioni. Darò solo una. E può essere che. Vinceremo ogni quattro. Ogni cinque estrazioni. E starò un po' ferma. A me conviene. Perché mi riposo un po'. Ogni volta a fare questi video. Mi diventa stancante. Perché poi domattina. Devi andare a fotografarle. Poi. E faccio un'altra diretta. Poi domani sera c'è un'altra estrazione. Poi un altro video. Poi giorno dopo un altro video. Poi la sera c'è un'altra estrazione. Del sabato e del sera. Non ti fermi mai. A me. Non conviene. Non conviene. Ok. Voglio essere sincero. Amici cari. Meglio dare una. Una situazione a tutti uguali. Che esce pure dopo cinque. E stazioni. Ma è importante. Che andiamo a vincere tutti. Quando mi seguono. Dieci abbonati. E tutti e dieci abbonati vincono. Quando me ne seguono. Dieci giocatori che giocano con me. Tutte e cinque. Tutte e dieci. Quelle che sia. Avete contato? Sono cinque vincite. Ma quella è la più bella. Da 100 euro sopra. Un bacione a tutti. E a domani. E buona settimana. E buona notte. La Dea Bendata ci ha basato. Ciao.